Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto penale. Il premio è quello di team legale dell'anno diritto penale d'impresa. La motivazione. L'elevata competenza e la specializzazione dimostrate dal team di esperti legali che hanno affiancato con successo i clienti di spicco attraverso una consulenza di qualità, dimostrando professionalità, rigore e accuratezza in tutte le questioni giuridiche, fanno dello studio una boutique di eccellenza legale in materia del diritto penale d'impresa. Il premio va a Studio Legale Sardella. In collegamento saluto subito l'avvocato Fabrizio Sardella, founder and name partner dello studio, l'avvocato Nicola Maria Cesare Pasquini, senior associate, naturalmente sempre dello studio legale Sardella. Benvenuti entrambi. Grazie, grazie. Grazie. Ben trovati, ben trovati. Allora, avvocato Sardella, parto proprio da lei per chiederle un commento a caldo su questo riconoscimento, ovviamente inserendolo nel contesto generale, insomma, il panorama che stiamo vivendo, diciamo così, di quest'anno del 2020. Grazie, è una grande soddisfazione, è una soddisfazione importante, soprattutto legata a questo momento storico, questo 2020 così difficile e periglioso per tutti. È il secondo anno consecutivo in cui raggiungo questo importante obiettivo di avere un riconoscimento dalle fonti e conferma, a mio modo di vedere, una grande soddisfazione e la laboriosità con cui tutto il team, tutti i giorni affianca le imprese e i nostri clienti. Conferma l'impegno di tutti e il valore delle persone che compongono questo bellissimo team che ho la gioia di guidare. Molto importante per noi, conferma anche la nostra impostazione, che è sempre stata quella di uno studio professionale con particolare attenzione all'approfondimento e alla ricerca, che dà sicuramente dei grossi risultati, soprattutto affianca e aiuta ad affiancare le imprese nel lungo periodo, per dare delle risposte che siano sempre le più corrette e le puntuali possibili. Una squadra vincente che quest'anno ha dovuto confrontarsi con periodi sicuramente difficili, che sono quelli dell'emergenza Covid che tutti noi stiamo vivendo. Noi siamo stati uniti, siamo riusciti come studio a proseguire nelle nostre attività, mantenendo il livello che abbiamo sempre cercato di avere e soprattutto, grazie alla specializzazione nel diritto penale dell'economia, siamo riusciti a stare affianco alle imprese nel momento per loro più difficile, quello appunto dell'emergenza Covid. Abbiamo trovato delle modalità di lavoro nuove, ma l'impegno è sempre lo stesso. Certo, assolutamente sì, modalità di lavoro nuove, insomma, flessibilità, innovazione, poi abbiamo sentito tanti altri punti nella motivazione. Do subito la parola all'Avvocato Pasquini, per naturalmente chiedere un commento anche a lei e magari appunto parlandoci di questa esigenza anche di modificare il lavoro, però mantenendo intatto il rapporto che c'è sempre stato con i vostri clienti. Sì, indubbiamente la flessibilità, soprattutto in questo periodo, deve essere oramai una caratteristica da confermare ancora di più, perché è chiaro ed è pacifico che il Covid abbia portato dei aspetti negativi a 360 gradi in tutte le professioni e in tutte le attività. Tuttavia, questa, diciamo, ancora più maggiore flessibilità ci ha consentito di, in ogni caso, di affiancare e di aiutare in ogni caso i nostri clienti e le imprese nell'ottica della prevenzione dei reati 2-3-1. Ritengo che dai aspetti, da questo periodo negativo, da questo periodo negativo, comunque, ritagliare degli aspetti, non dico positivi, ma che debbano essere di spunto per un futuro, da vedersi anche forse come sfida, perché abbiamo visto da ultimo che anche sulla base di un oramai consolidato processo civile telematico, anche il processo penale sta prendendo spunto dal, diciamo, da questo processo con modalità telematica e sicuramente può aiutare anche l'esercizio della professione, anche processuale e non soltanto da un punto di vista stragiudiziale, con delle modalità anche da remoto. Certo, 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 insomma, sono aggiunte delle possibilità, mettiamola così, che quindi si riconduce tutto al termine flessibilità. Allora, ancora una battuta da parte di entrambi, torno proprio per avviarci ai saluti, torno dall'Avvocato Sardella, quindi come proseguire, insomma, come guardare al futuro da adesso in avanti? Con fiducia e positività, come abbiamo sempre fatto ed è l'augurio che ciò possa essere, diciamo, davvero concretizzarsi, quindi che sia tutto più positivo e più felice per le imprese e per lo studio. Lo studio, da parte sua, proseguirà in quello che sta facendo, con gli ottimi risultati che oggi possiamo vedere grazie alla vostra importante premiazione. L'obiettivo sarà sempre quello di garantire la massima qualità e il massimo impegno. Questo è l'impegno che lo studio legale Sardella ha come suo commitment nei confronti dei clienti. Il prossimo futuro ci riserverà delle grandi sorprese, sicuramente, e noi saremo pronti ad essere al fianco con le nostre importanti imprese e clienti per vivere al meglio questi nuovi scenari. Benissimo, nuovi scenari, giusto. Avvocato Pasquini, anche a lei una battuta finale per i saluti. Beh, allora, indubbiamente non bisogna mai adagiarsi sui risultati raggiunti, che comunque questo premio, che fa seguito comunque a quello che lo studio ha raggiunto lo scorso anno, ne è un'ulteriore conferma, ma dobbiamo certamente cercare di migliorarci sempre più da un punto di vista tecnico, quindi con ancora maggior applicazione e ricerca per coadiuvare ed essere sempre di maggior aiuto, per quanto possibile, alle imprese e a tutti i nostri clienti. Benissimo, direi che avete anche, insomma, più o meno indirettamente lanciato un messaggio di positività ai clienti e questo è doveroso e quindi io ringrazio l'avvocato Fabrizio Sardella, founder e name partner di Studio Regale Sardella, e l'avvocato Nicola Maria Cesare Pasquini, senior associate dello studio. A tutto il vostro team, complimenti naturalmente da parte nostra. Grazie. Grazie. Grazie a entrambi e a presto. A presto. A presto. Arrivederci, grazie.